... ... ... ... ... ... Io non la guida, qualcuno la guida, era uno che ci aveva dentro la guida. Oh finalmente lo posso salutare che non ti vedevo da te con la mia città, adesso da quando avete visto la prima e poi ci hanno. No, no, non la guida. Non c'è la guida, non c'è la guida, non c'è la guida, non c'è la guida. Non c'è la guida, non c'è la guida, non c'è la guida. La guida, guardami. La nostra vocazione, come è noto, è anche quella di promuovere sinergie e di collaborare diseggetti che hanno voce per noi di mettersi a distinzione della comunità. Vi dico un grande piacere abbiamo colto questa possibilità. la guida, guardami. Guardi anche di qua, guardi anche di qua. Grazie. Grazie. Stiamo a sentire? Questa città è una mia maniera... Allora, l'opera è stata la spazio del Ciclique... ...il tifo del Accentra di Poi di Poi di Poi di Poi di Poi. se si fai, la città è la compita e la città di Poi di Poi di Poi. No, no, perché...